Tutto pronto, primo pallone per i rossoneri, inizia questo derby di fondamentale importanza per il proseguimento del nostro campionato. Quindi Gamata per il Milan, pallone di ritorno per lui è però un po' lungo, ci arriva per primo Baldini, attenzione a Steffè, Steffè dentro l'area, il tiro di Steffè è debole. E palla tutto Gori, fa girare palla l'Inter che sbaglia, ha prestato dai nostri giocatori, attenzione a Cutrone, Cutrone, il passaggio verticale per Fabbro. Calcio d'angolo per il Milan, spiovente in mezzo, però resta lì il tiro, è la rete del Milan, rete del Milan. L'autore del gol dovrebbe essere Patrick Cutrone, Milan che passa in vantaggio, non è proprio così, Patrick Cutrone porta il Milan in vantaggio e tutta la sua esultanza. E furbo Cutrone a sfruttare una palla sporca e a portare il Milan in vantaggio, Milan 1, Inter 0, la rete di Patrick Cutrone. Costanto a fermarsi dal rientro di Dimolfetta, bravissimo Dimolfetta, attenzione a questo pallone, ritorno di Palazzi per Camarà che tira. Il pallone però colpisce l'esterno della rete. Va a chiudere Felicioli, viene saltato però Camarà può entrare in area di rigore, attenzione a Correia, Correia, il tiro, il gol di Correia. 1-1, siamo fatti cogliere impreparati, male, rete Camarà, forge in mezzo per Correia, non siamo riusciti a chiudere con Zondanini e Calabria ma secondo me dovevamo gestire meglio il pallone prima che Camarà potesse servire Correia. Sulla linea laterale ci riesce, salta sul diretto avversario, Felicioli fa tutto da solo, va sul fondo, poi appoggia per Dimolfetta, il cross è bello per Fabbro. Sbaglia il controllo ma riesce lo stesso a mantenere il possesso della sfera, Dimolfetta prova ad accentrarsi, l'appoggio per Gamara che può caricare il destro. Lancio di Gnocuri a cercare il solito Camarà, va Felicioli a pressare, Camarà lo salta anche questa volta, poi va a terra. È arrivato proprio il calcio di rigore, il fallo, rivediamo, di Felicioli su Camarà. Tutto pronto, parte Rocca col destro, spiazza Gori, Inter 2, Milan 1, nulla da fare. Un Inter che ha giocato fino a questo momento a lanci lunghi su Camarà, strategia che sta pagando. Cross di Calabria sul secondo palo, c'è Vassallo che rimette in mezzo e poi ha letteralmente svirgolato. Forze fresche ne abbiamo in campo, Vido, 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 attenzione indietro per Vassallo, Vassallo dentro la rigore, il tiro di Vassallo che non trova la porta. Rivediamo, bravissimo Vido. Controllo e appoggio, poi Vassallo con la punta. Forse avrebbe dovuto tirare d'interno collo. Camarà, Camarà va via a bordo, attenzione a Camarà che prova a servire Steffè, 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 il tiro è la grande parata di Gori. Vido, attaccato a due uomini, scarico per Felicioli che prova a entrare in area di rigore. Felicioli va sul fondo, il suo cross è bello, il pallone resta lì e va fuori di un soffio. Senza che il portiere potesse intervenire. Il tempo regolamentare è scaduto e infatti arriva il triplice fisco del signor Vesprini.